Musica Voti in cambio di denaro a Trigiano nel Barese sono 13 gli indagati per corruzione elettorale tra cui il marito dell'assessore ai trasporti della regione Puglia, perquisizioni in corso anche in casa del neoeletto sindaco Donatelli. Anche il governatore Emiliano ha partecipato all'incontro romano della conferenza delle regioni e delle province autonome dedicato al PNRR. Si parte il 16 dicembre con la somministrazione delle dosi anti-covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'inoculazione avrà solo dietro l'autorizzazione dei genitori e un orario extrascolastico. Ben ritrovati con le notizie in diretta di Antena Sud. Come avete sentito nei titoli sono 13 gli indagati per corruzione elettorale a Trigiano tra cui anche il marito dell'assessore ai trasporti della regione Puglia, perquisizioni anche in casa del neoeletto sindaco. Voti in cambio di denaro è quanto sarebbe accaduto secondo la Procura in occasione delle consultazioni elettorali che si sono tenute recentemente nella provincia di Bari per indirizzare le preferenze di numerosi elettori. Sono oltre 50 i carabinieri del Comando Provinciale impegnati in decine di perquisizioni domiciliari. Tra le persone sottoposte a perquisizione il neoeletto sindaco di Trigiano Antonio Donatelli, i consiglieri comunali Angela Napoletano e Antonio Fortunato e Alessandro Cataldo, ritenuto dagli inquirenti Deus Ex Machina del collaudato sistema. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo e della sezione di polizia giudiziaria coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari sono partite quando i pubblici ministeri sono venuti a conoscenza dell'esistenza di un meccanismo che sarebbe stato architettato e realizzato nelle ultime campagne elettorali del creatore del movimento politico Sud al Centro, in modo da canalizzare il voto, previo pagamento di 50 euro, di diversi elettori a favore dei candidati sostenuti. Il partito politico era stato già al centro di una precedente indagine, chiusa nel febbraio scorso, che aveva coinvolto 50 persone per corruzione elettorale a seguito delle elezioni amministrative del 2019, quando fu eletto al primo municipio di Bari, candidatosi con la stessa lista, Carlo De Giosa, ritenuto vicino all'assessora regionale ai trasporti, Anita Mauro Di Noia, quest'ultima non indagata. L'attenzione degli inquirenti si concentrava sul Trigiano, comune di residenza di Cataldo. Le indagini hanno permesso di documentare come si fosse attivata una rete di gregari per individuare e contattare cittadini trigianesi disposti a tributare il loro voto al candidato sostenuto in cambio di 50 euro. I carabinieri, la sera del 6 ottobre, in un cassone stradale di raccolta indifferenziata, collocato in un piazzale buio ed isolato a San Giorgio, hanno scoperto un materiale ritenuto scomodo perché rinveniente delle attività legate alla appena conclusa campagna elettorale, frammenti di fotocopie relative a documenti di identità e codici fiscali di cittadini, manoscritti con il nome di persone e i loro recapiti, documentazione personale di Sandro Cataldo e Anita Mauro Di Noia, un consistente numero di cartelloni, facsimile di schede e volantini di propaganda elettorale, inerente le consultazioni amministrative del comune di Treggiano e relativo ai candidati delle liste Treggiano al centro e con Donatelli sindaco. Cronaca, rapina Brindisi, svaliggiata la storica gioielleria La Rocca al rione Santa Chiara. Brutto risveglio per i proprietari della storica gioielleria della Rocca presso il quartiere Santa Chiara di Brindisi. All'alba del 9 dicembre, quattro uomini hanno fatto irruzione nel locale commerciale di Via Verona, segando la sara cinesca. L'hanno poi sollevata, probabilmente utilizzando un piede di porco, creando un barco che ha permesso loro di entrare nella gioielleria e fare razzia di quanto è esposto nelle teche, per darsi, infine alla fuga. È accaduto intorno alle 5 del mattino, quando è scattato l'allarme della gioielleria ammessa a soquadro dei quattro malviventi, ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona e dell'attività commerciale. Dopo il furto e la fuga da Via Appia in direzione Taranto, a bordo della BMW Station Bego di colore scuro, intercettata dai carabinieri, nei scaduri di un inseguimento terminato sulla statale 7, all'altezza dell'uscita di Restinco, dove i malviventi hanno lasciato cadere sull'asfalto i chiodi a tre punte, mettendo fuori uso le auto dei carabinieri. Alle 7.20 poi, quella stessa auto è stata ritrovata avvolta dalle fiamme, proprio in località Restinco. Sul posto anche la Polizia di Stato, che ha avviato un'attività di indagine. Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Parliamo adesso di vaccinazioni. Si parte il 16 dicembre con la somministrazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Vediamo come si è organizzata la Regione. I bambini pugliesi, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e dal 16 dicembre prossimo saranno vaccinati nelle scuole in orario extrascolastico. Gli istituti scolastici saranno individuati dalle ASL. A somministrare i vaccini dovranno essere dei team istituiti sempre dalle aziende sanitarie. Lo precisa in una circolare la Regione Puglia. Si ritiene opportuno, si legge nella nota, che gli istituti scolastici e gli uffici scolastici provinciali raccolgano in forma anonima e per ambito territoriale le disponibilità alla vaccinazione da parte dei genitori, tutori, affidatari o caregiver. I pediatri potranno vaccinare nelle scuole individuate come AB. Per i bimbi che hanno una condizione di fragilità o disabilità grave o sono in assistenza domiciliare, il vaccino sarà somministrato dai centri specialistici dei nodi delle reti di patologia e delle malattie rare della Puglia che hanno in carico questi soggetti oppure dalle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate dove sono ricoverati i pazienti o ancora dai pediatri di libera scelta presso i rispettivi ambulatori e dalle USCA presso il domicilio del soggetto. Per questi pazienti pediatrici è assicurata la massima priorità precisa ancora lente. L'accesso alla vaccinazione per i pazienti pediatrici avviene mediante chiamata attiva da parte delle strutture e dei soggetti erogatori. Sempre una notizia riguardante i vaccini con il 19% del target la Puglia ha superato la media nazionale delle somministrazioni della dose booster a livello complessivo ed è superiore del 3% rispetto alla media italiana nelle fasce 40-69 lo ha comunicato la Regione Puglia. Andiamo a dare un'occhiata anche al bollettino epidemiologico oggi sono 229 positivi su 16.663 tamponi effettuati con un tasso di positività dell'1.4% in diminuzione rispetto al 2,3% di ieri una alla persona deceduta sono 4.886 le persone attualmente positive e 136 quelle ricoverate in area non critica 18 quelle in terapia intensiva. Cambiamo argomento anche il governatore Emiliano ha partecipato all'incontro romano della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dedicato al PNRR. Il ruolo delle Regioni nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza è quello della Conferenza per il Futuro dell'Europa di questo si è parlato nella Capitale durante l'incontro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di cui il governatore pugliese Michele Emiliano è vicepresidente al fianco di Massimiliano Fedriga presidente del Friuli Venezia Giulia all'appuntamento ha partecipato anche il numero 1 del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea Apostolos Zizi Costas Il PNRR anche per questione di tempi forse non è riuscito almeno in Italia a creare questa sinergia tra Unione Europea Italia e Regioni ma le Regioni con grande senso di responsabilità stanno cercando di aiutare il governo italiano a uscire nel migliore dei modi da questa sfida non facile e quindi nonostante qualche nostra riserva sul livello non elevato di coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni stiamo cercando di andare avanti è molto importante il Comitato delle Regioni in questo momento perché l'Unione Europea è una costruzione molto originale nella quale gli stati nazionali quindi i governi hanno un peso molto rilevante certe volte più rilevante del Parlamento e della Commissione e quindi la spinta dal basso che assicurano le città e le Regioni è molto importante per diciamo la storia della Unione Europea per poter portare avanti per esempio la battaglia sul clima che ai governi nazionali come abbiamo visto a Glasgow valevolte non interessa quanto ai cittadini e solo notizia riguardante la dorsale adriatica è stata approvata la risoluzione a prima firma dell'onorevole Gianluca Rospi che indirizza il governo sull'alta velocità sulla dorsale adriatica dopo il sì della Commissione Trasporti ora il governo acceleri per completare il corridoio adriatico della rete TNT con l'impegno preso in commissione ha commentato Rospi il governo si impegna ad intraprendere le iniziative per completare il corridoio scandinavo mediterraneo della rete TNT sulla dorsale adriatico questo significa un impegno concreto per portare l'alta velocità fino alla città di Lecce e inserire il porto di Brindisi tra le reti dei porti Cor cambiamo argomento a Bari arriva Babbo Natale con il suo villaggio buon Natale buone feste soprattutto ai più piccoli alle nostre bambine e ai nostri bambini auguri Bari grazie il Natale il Natale si accende anche in piazza Umberto a Bari dove prende vita il villaggio di Babbo Natale e torna la magia dello spettacolo viaggiante a fare da cornice la ruota panoramica super colorata che svetta dietro la fontana monumentale un'altra attrazione per questo Natale dopo il doloroso stop dello scorso anno caro bimbo e bimba io sarò sicuramente a casa tua perché io fermerò il mondo per portare i doni a tutti i bambini del mondo perché io voglio bene il mio cuore per tutti i bambini però ricordatevi di essere buoni adesso parliamo di vacanze non solo natalizie perché la Puglia è tra le mete prescelte dai vacanzieri sia per le festività natalizie ma arrivano anche le prenotazioni per l'estate nonostante le restrizioni la variante Omicron c'è chi non rinuncia al viaggio di Natale lo confermano i tour operators soddisfatti della ripartenza non ci sono preferenze specifiche c'è chi sceglie di oltrepassare i confini nazionali e chi opta per un capodanno in Puglia tra l'altro la Puglia è entrata nella top 5 delle regioni preferite degli italiani come meta per le vacanze invernali rispetto all'anno scorso quindi la situazione è notevolmente migliorata i viaggi hanno ripreso hanno ripreso soprattutto diciamo i viaggi a lunga diciamo a lungo raggio abbiamo le prime prenotazioni per gli Stati Uniti Santo Domingo le Seychelles prettamente diciamo il viaggio che va per la Maggiore e sono sicuramente le crociere abbiamo dei clienti che trascorreranno le festività natalizie in crociera quindi quest'anno rispetto all'anno scorso si sente la ripartenza rimane senza dubbio diciamo anche l'Italia come meta diciamo prescelta anche per brevi soggiorni città d'arte montagna ci sono pugliesi che decidono di restare in Puglia e abbiamo delle richieste soprattutto per il per Capodanno ecco per festeggiare il Capodanno in Puglia e rimanere nelle nostre zone scelgono prettamente delle masserie quindi ho anche dei piccoli borghi nascosti non solo vacanze invernali c'è chi sta programmando quelle estive ed ecco che a dicembre iniziano ad arrivare le prime prenotazioni per l'estate 2022 in Salento con questo servizio si chiude l'informazione regionale a tra poco per le notizie dei territori a tra poco